Ma come è strutturato lo stato patrimoniale di una società? Quali sono le voci che compongono appunto lo stato patrimoniale? Vediamolo assieme. In questa lezione andiamo a vedere come è strutturato lo stato patrimoniale di un'azienda. Cominciamo col dire che lo stato patrimoniale è uno dei due prospetti che compongono il bilancio di una società. Quindi il bilancio di una società è strutturato in questo modo. Abbiamo lo stato patrimoniale e il conto economico. Quindi i due prospetti sono questi. Quindi stato patrimoniale e il conto economico. A sua volta lo stato patrimoniale e il conto economico sono divisi in due parti. Lo stato patrimoniale è diviso in attivo o attività che siano e passivo o passività. Il conto economico è suddiviso in costi e ricavi. Noi oggi ci concentreremo sullo stato patrimoniale quindi andiamo a vedere quali sono appunto le voci che compongono sia l'attivo sia il passivo dello stato patrimoniale. Ad ogni modo è importante accennare la funzione anche del conto economico. Quindi conto economico rappresenta praticamente nell'arco di un anno le operazioni che ho fatto di acquisto di beni, servizi di supporto per esempio nel lavoro per esempio con i dipendenti che sono comunque un costo aziendale ecco che io ho fatto degli acquisti ho acquistato per poi andare a rivendere tramite ricavi appunto quello che l'attività per cui faccio tutti i giorni il lavoro cioè la mia attività ecco che potrei andare a cedere dei beni prestare dei servizi quindi tutto quello che io vendo sono ricavi ovviamente poi alla fine dell'anno si va a verificare la differenza tra ricavi e costi e ovviamente se i ricavi sono superiori ai costi avrò generato un utile diversamente se i costi sono maggiori rispetto ai ricavi avrò generato una perdita noi però ci concentriamo sullo stato patrimoniale quindi lo stato patrimoniale come ti dicevo è diviso tra attivo e passivo devi sapere che la composizione dello stato patrimoniale e anche del conto economico sono indicati dal codice civile italiano poi ovviamente abbiamo anche i principi contabili italiani che vanno ulteriormente a dare delle spiegazioni noi ci concentriamo appunto su la composizione e la struttura che ci dà il codice civile italiano e in particolare ci dice che l'attivo è suddiviso in tutta una serie di sezioni in particolare la prima sezione dell'attivo dello stato patrimoniale è rappresentata dai crediti verso soci per versamenti ancora dovuti quindi è una prima sezione indicata con la lettera A maiuscola cosa rappresentano questi crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ti faccio un esempio per capire di che cosa si tratta devi sapere che se stiamo considerando le società per esempio le SRL una società a responsabilità limitata nel momento in cui i soci costituiscono la società cosa devono fare devono dotarla di appunto qualcosa di una dotazione iniziale per poter partire ecco che questa dotazione iniziale che rappresenta il capitale sociale che poi lo andremo a trattare nel passivo dello stato patrimoniale è rappresentata da che cosa? è rappresentata nella stragrande maggioranza dei casi da denaro da liquidi quindi fanno un versamento praticamente i soci e danno liquidità alla società per poter permettere di partire e sostenere appunto le prime spese quindi i soci si impegnano a sottoscrivere un determinato importo ipotizziamo il classico 10.000 euro per una SRL e quindi si impegnano lasciando stare appunto altre casistiche che si possono conferire per esempio anche i beni i servizi concentriamoci sulla liquidità si impegnano a versare 10.000 euro appunto nella SRL devi sapere però che non hanno l'obbligo di versare questi 10.000 euro perché potrebbero in fase di costituzione quando vanno dal notario potrebbero anche versare almeno un 25% cioè la normativa ci dice almeno il 25% del capitale sociale che è stato sottoscritto dei soci deve essere versato quindi vuol dire 2.500 euro e gli altri 7.500 euro possono essere versati in un secondo momento quando gli amministratori o l'amministratore della società riterrà opportuno appunto chiedere ai soci di fare questo ulteriore versamento a completamento appunto del capitale sottoscritto ecco che nel momento in cui appunto i soci non versano tutto il capitale sociale che hanno sottoscritto si genera un credito della società nei confronti dei soci quindi quei 7.500 euro rappresentano un credito che va a posizionarsi qui crediti verso soci per versamenti appunto ancora dovuti poi abbiamo tutta l'area delle immobilizzazioni le immobilizzazioni le troviamo appunto sempre nell'attivo dello stato patrimoniale e cosa sono le immobilizzazioni le immobilizzazioni sono fondamentalmente degli investimenti che la società fa di durata pluriannale quindi qual è la differenza tra un costo secco complessivo di un di un esercizio di un anno e invece un'immobilizzazione la differenza sta nel fatto che io quando faccio un acquisto lo metto tutto a costo se si tratta di un acquisto che ha una funzione solo ed esclusivamente per quel per quell'anno per quel periodo quindi per esempio acquisto cancelleria o mi faccio fare una consulenza nel corso del mese di settembre è chiaro che questo è un costo dell'esercizio quindi andrà a finire tutto nel conto economico diversamente se io compro per esempio un macchinario compro un'attrezzatura compro un immobile come puoi capire tecnicamente è sempre un acquisto è sempre un costo ma il punto qual è che se io compro un macchinario io quel macchinario lo andrò a utilizzare non solo nell'anno di acquisto ma lo andrò a utilizzare anche l'anno prossimo tra due tra tre quattro anni e quindi il discorso è questo io non posso andare a imputare il costo di acquisto di quel macchinario tutto subito nel conto economico perché la sua funzione è spalmata su più anni quindi io devo andare a imputare il suo costo nei vari anni in cui io vado a utilizzare quel macchinario quindi che cosa faccio vado a posizionare il costo storico si dice di acquisto del macchinario qui tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale attivo e poi andrò a suddividere questo costo storico negli anni di utilizzo di quel macchinario attraverso un processo che si chiama ammortamento e grazie all'ammortamento andrò a imputare una quota parte del costo nel conto economico anno per anno quindi io mi ritrovo appunto le immobilizzazioni che poi sono di diverso tipo abbiamo le immobilizzazioni appunto immateriali che sono quelle intangibili per esempio software brevetti ecco che sono intangibili e comunque sono sempre immobilizzazioni ma immateriali sempre attivo dello stato patrimoniale poi ho le immobilizzazioni materiali che sono quelle tangibili quindi classico macchinario l'attrezzatura ecco che sono immobilizzazioni materiali poi ho anche quelle finanziarie in questo caso per esempio quando faccio investimenti duraturi per esempio compro una quota io società compro una quota divento socia la società diventa socia a sua volta di un'altra società e quindi ho una partecipazione in un'altra società ecco che questo è un investimento duraturo e diventa un'immobilizzazione finanziaria poi abbiamo un'altra sezione molto importante e molto corposa che è l'attivo circolante quindi un attivo che si contrappone all'attivo immobilizzato che come dice il termine stesso è fermo e di per diversi anni ecco che l'attivo circolante diciamo che circola che ruota quindi cosa abbiamo all'interno di questa attività per esempio abbiamo il magazzino le rimanenze cioè quindi quei prodotti che io ho comprato ma che alla fine dell'anno non ho ancora venduto e quindi il costo di acquisto di quei prodotti devo spostarlo all'anno successivo a quando andrò a vendere per fare in modo che in quell'anno in cui vendo ci sia anche il relativo costo di acquisto quindi se io compro quest'anno dei prodotti ma alla fine dell'anno non li ho venduti allora cosa faccio vado a spostare questo costo di acquisto dal conto economico di quest'anno lo sposto lo traslo attraverso appunto la valorizzazione delle rimanenze che le metto nell'attivo patrimoniale lo sposto all'anno successivo se poi l'anno successivo vendo questo prodotto allora non sarà più ovviamente una rimanenza perché non ci lavoro più a magazzino e quindi avrò terminato il processo mettendo sia il costo che il ricavo diversamente se anche l'anno prossimo non vendo quel prodotto andrà nuovamente nell'attivo dello stato patrimoniale per spostarlo all'anno successivo ancora poi abbiamo i classici crediti i crediti verso clienti quindi ho venduto un bene un servizio ma non ho ancora incassato e quindi ho un credito poi potrei avere un credito verso l'erario per esempio credito iva quindi ho una liquidazione iva che è a credito ecco che ho un credito verso l'erario poi abbiamo le disponibilità liquide quindi appunto denaro che ho sul conto corrente per esempio potrei avere anche cassa contanti o potrei avere degli assevi sempre attivo circolante e poi da ultimo l'ultima categoria sono i ratei e risconti attivi che vanno sempre qui nello stato patrimoniale cosa sono i rate e risconti ovviamente servirebbe una lezione specifica per dire cosa sono i rate e risconti e per capirle li trovi comunque sul canale delle lezioni dedicate quello che ti posso dire in estrema sintesi che rate e risconti non sono altro che costi e ricavi che si manifestano tra un anno e un altro quindi a cavallo d'anno che a seconda dei casi in particolare i ratei sono dei costi o dei ricavi che sono di competenza una parte di un costo di un ricavo che è di competenza di quest'anno ma che avrà la manifestazione finanziaria l'anno successivo ma io che devo comunque stanziare quindi rateo passivo è una parte di un costo che è di competenza di quest'anno che io andrò a pagare l'anno prossimo ma che devo stanziare rateo attivo sarà una parte di ricavo quindi rateo attivo una parte di ricavo che appunto io andrò a incassare l'anno prossimo ma io devo già stanziare per il principio di competenza quest'anno i risconti sono praticamente l'opposto a livello finanziario cioè sono una parte di un costo di un ricavo che ha già avuto la manifestazione finanziaria che ho già incassato che ho già pagato che devo spostare all'anno prossimo perché è di competenza dell'anno prossimo quindi in particolare il risconto attivo che cos'è è una parte di un costo che io ho già finanziariamente pagato ma che si riferisce all'anno prossimo o comunque agli anni futuri quindi devo spostare all'anno prossimo risconto passivo è l'opposto è una parte di un ricavo che io ho già incassato ma che si riferisce all'anno prossimo o agli anni futuri quindi devo spostare con un risconto passivo appunto all'anno successivo questo è l'attivo dello stato patrimoniale poi abbiamo tutto il passivo allora passivo è strutturato in che modo io lo divido innanzitutto in due sezioni cioè in due parti poi in realtà tecnicamente è diviso in cinque parti che adesso andiamo a vedere secondo il codice civile però io inizialmente lo divido in due parti quindi il passivo fondamentalmente cosa sono? sono dei debiti che la società ha questi debiti possono essere o verso l'interno che sarebbe il patrimonio netto che è la prima voce o verso l'esterno quindi verso l'interno cioè verso i soci oppure verso l'esterno quindi può essere verso chiunque ecco che questa è la macro su divisione che di solito io do poi ovviamente c'è una divisione secondo il codice civile quindi il codice civile cosa ci dice? che c'è una prima sezione che è appunto il patrimonio netto che cos'è il patrimonio netto? in sostanza è un debito che la società ha nei confronti dei proprietari della società cioè dei soci stessi com'è composto il patrimonio netto? sicuramente c'è il capitale sociale è quell'importo che vediamo prima può essere denaro liquido ma possono essere anche beni servizi che i soci hanno conferito in fase di costituzione o successivamente se hanno fatto un aumento di capitale sociale quindi innanzitutto c'è il capitale sociale che attenzione per evitare fraintendimenti il capitale sociale non è una somma che i soci mettono lì e deve rimanere cristallizzata perché molto spesso sento dire la SRL costituisce con 10.000 euro di capitale sociale quei 10.000 euro devono rimanere lì nel conto corrente assolutamente no non può essere spesa quella somma tranquillamente diciamo che è un importo che i soci hanno dato in fase di costituzione che ovviamente poi dovrà essere restituito quando la società chiuderà quindi verrà messa in liquidazione sempre che ci sia disponibilità per restituirla ai soci ma nel patrimonio netto non ci sono solo non c'è solo il capitale sociale ci sono anche tutte le riserve quindi ci sono veramente tante riserve cosa sono riserve fondamentalmente di che cosa la società anno per anno può generare come ti dicevo prima nel conto economico delle perdite oppure degli utili se genera degli utili questi utili possono essere o distribuiti dai soci ai soci quindi la società ritorna la marginalità ai soci perché fondamentalmente i soci cosa fanno investono il capitale sociale nella società perché vorrebbero poi avere un ritorno dell'investimento sotto forma sia di capitale ma anche di una maggiorazione ecco che questi sono gli utili prodotti che se vengono distribuiti si tratta di dividendi e allora escono immediatamente dalla società ma se i soci decidono per prudenza per valutazione loro di non prendersi subito questi utili ecco che li vanno a stanziare nel patrimonio netto sotto forma di riserve ci sono appunto diverse riserve alcune obbligatorie per esempio la riserva legale quindi nel momento in cui tu generi degli utili il codice civile ti dice attenzione che il 5% degli utili devi andarlo a stanziare a mettere lì per sicurezza nella riserva legale fino a quando la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale per esempio classici 10.000 euro ecco che la riserva legale deve arrivare almeno a 2.000 euro ma poi ci possono essere altre riserve per esempio riserve statutarie quindi nello statuto della società vengono fissate una serie di regole tale per cui certi utili una certa percentuale di utili per una serie di anni ci sono 3.000 possibili personalizzazioni vengono messi in una riserva appunto del patrimonio netto poi ci sono ovviamente altre riserve come per esempio banalmente gli utili portati a nuovo quindi i soci non vogliono distribuirli non vogliono stanziarli a nessuna riserva particolare e decidono praticamente di metterli in questa riserva di utili che poi decideranno cosa fanno in futuro potrebbero distribuirli così come potrebbero anche decidere di utilizzarli per coprire delle perdite perché io comunque se genero una perdita dove la metto è la metto sempre nel patrimonio netto ma in negativo quindi attenzione a non fare in modo che le perdite siano eccessive perché se no poi subentrano anche degli obblighi di messa per esempio in liquidazione della società o obbligo comunque di ricapitalizzazione della società quindi il patrimonio netto è fondamentalmente tutto quel debito che la società ha nei confronti dei soci che prima o dopo dovrà essere restituito poi cosa abbiamo abbiamo due voci che rappresentano i fondi quindi i fondi rischi e oneri e poi il trattamento di fine rapporto si tratta sempre di fondi quindi partendo dai fondi rischi oneri sono degli stanziamenti che io faccio per degli impegni che ho assunto o dei rischi che potrei correre che comunque devo stanziare appunto già nell'anno in corso magari ho rischi magari di sanzioni perché ho una verifica in corso e tutto e quindi stanzio per competenza per prudenza e per correttezza appunto degli importi a questo fondo rischi e fondo oneri in cui non so ancora bene quando si diventerà definitivo e quale sarà l'importo effettivo perché quando saprò quando sarà definitivo e quando saprò l'importo diventerà un debito nella voce successiva quindi stanzio questo fondo così come un altro fondo seppur diverso è il fondo TFR quindi ha una voce specifica la voce C cos'è il fondo TFR? è una somma che nel momento in cui una società ha dei dipendenti deve stanziare appunto ogni anno e rappresenta praticamente una somma che verrà data al dipendente nel momento in cui terminerà il rapporto lavorativo con l'azienda e la classica liquidazione si chiama più o meno è una mensilità questo stanzialmente considera che è la retribuzione anno all'orda diviso 13,5 quindi grandi linee sono 13-14 mensilità è più o meno una mensilità annua poi in realtà c'è anche una rivalutazione che viene fatta di anno in anno quindi si prende il TFR degli anni precedenti e si rivaluta per un importo fisso più una parte variabile legata all'inflazione considera che già da un po' di anni a questa parte il fondo TFR che è interno può essere in realtà sostituito da una decisione da parte dei dipendenti di esternalizzare questo stanziamento a dei fondi pensione quindi in questo caso non abbiamo più il fondo TFR che è una somma che resta all'interno diciamo della società e che verrà adatta appunto dalla società ma il dipendente decide di darlo a un fondo pensione e quindi sarà poi il fondo pensione a dare questa somma quindi tecnicamente non è più nel fondo TFR ma l'azienda registra un debito verso il fondo pensione fa il versamento e poi sarà un rapporto tra fondo pensione e dipendente quindi questo è il fondo TFR poi abbiamo i debiti qui un po' come nell'attivo circolante c'è un po' di tutto è chiaro che io potrei avere debiti verso i dipendenti perché devo pagarli ho debiti verso i fornitori ho fatto acquisti ma non ho ancora pagato debiti verso l'erario devo pagare l'iva devo pagare può essere i contributi devo pagare le imposte quindi debiti diverso tipo e poi come ultima voce abbiamo i rate e i risconti un po' come per l'attivo rate e risconti in questo caso passivo che appunto ti ho spiegato prima brevemente cosa sono i rate e i risconti passivi quindi questa è la struttura dello stato patrimoniale diviso in attivo e diviso in passivo e i risconti